Buonasera ragazzi e bentornati sul mio canale youtube. Oggi siamo a un video hall, quindi a un video acquisti effettuato presso un negozio Lush che come sapete realizza cosmetici fatti a mano, hand made cosmetics, come leggete qui, assolutamente freschi. Prima di iniziare il video vi ricordo sempre di partecipare al mio giveaway, indicato qui in alto in questo momento, mancano solo 60 iscritti, dopo 60 iscritti potrò estrarre il premio, quindi ci terrai tanto che vi iscriveste al canale e partecipaste. Iniziamo dunque con il video. Avevo voglia di prendere uno scrub per il viso e dunque oggi ho deciso di prendere questo qui. Allora vi mostro subito, come sapete Lush confeziona sempre singolarmente tutti i prodotti e quindi il primo prodotto che vi vado a mostrare è questo, Ocean Salt Scrub Riso e Corpo. Vi leggo un pochino quello che c'è scritto. Questa è la nuova formula, ossia ora nella formula autoconservante uno scrub intenso e fresco a base di sale marino, burro di avocado nutriente e lime per accendere la pelle spenta. È un prodotto autoconservante dunque vuol dire che i propri elementi costitutivi lo rendono conservante senza che vi siano additivi chimici che lo conservino. Come si usa? Si massaggia in quantità generosa sulla pelle bagnata, in questo caso del viso, si risciacqua e si apprezza l'effetto di seta. Primo piano qui dice uno scrub splendido per spazzare via cellule morte e lasciare la pelle morbida, elastica e idratata, meraviglioso anche sul corpo. Poi dice buono a sapersi, uno scrub per il viso e corpo, rinvigorente e un po' birichino, ispirato infatti ad un cocktail da spiaggia. Infatti all'interno di questo scrub c'è un cocktail che se vogliamo di vodka e lime. È un prodotto cruelty free, nel senso che non viene testato né come prodotto finito né come elementi costitutivi sugli animali. E diciamo la scatolina questa che vedete è assolutamente reciclata. Gli ingredienti di questo scrub sono veramente molto buoni, quindi sale marino fino, sale marino raccolto a mano, infuso di pompelmo fresco, quindi astringente, tofu delicato, glicerina vegetale, cera giapponese e estratto di lime fresco, biologico e diciamo disciolto in vodka, quindi un estratto di lime ci garantisce luminosità al viso ed è anche astringente. Burro di mango, olio extravergine di cocco che è emolliente, burro di avocado anch'esso idratante ed emolliente, olio essenziale di lime, essenza assoluta di cuarcia marina, essenza assoluta di foglie di violetta e poi limonene, ok, poi dei profumanti. Viene, diciamo, è un prodotto pensato in UK, Gran Bretagna, ma è un prodotto in Croazia, viene sui 12 euro e questa è la confezione piccola da 100 grammi, come vedete è vegan. La consistenza, ve lo apro in modo che lo vediate, allora vediamo come si apre, un attimo solo di pazienza, ecco, basta ruotare, eccolo qui. Io l'ho provato a negozio, ha una profumazione molto intensa, ma una volta risciacquato la profumazione si fa più delicata e devo dire piacevole e si percepisce molto in lime, quindi è molto fresca. Come vedete l'effetto sulla pelle del sale è questo, vedete queste microparticelle garantiscono un effetto esfoliante. Ovviamente io l'utilizzerò e vi dirò poi le mie prime impressioni. Dopodiché mi è stato regalato dalle commesse molto carinamente un altro prodotto della Lush, mi hanno regalato un sapone, questo qui. È un sapone anche molto costoso, mi ha colpito molto, vedete qui è indicato il prezzo, ma in verità è un campioncino. È un sapone che viene 85 euro al chilo, il che vuol dire che meno di 50 grammi, cioè 48 grammi, mi vengono circa 4, mi sarebbero venuti circa 4 euro. Vi mostro il sapone, il nome del sapone è questo, Fresh Pharmacy. È un sapone specifico per pelli miste, lo chiamano infatti anche il cancella brufoli. Me ne hanno dato come vedete un buon pezzettino, eccolo qui, un buon pezzettino. Perché lo chiamano il cancella brufoli? Perché è un detergente, appunto specifico per le pelli impure, sicuramente anche quello dei teenager, e che si può utilizzare mattina e sera. Quali sono i suoi elementi costitutivi? È un sapone all'argilla, che appunto si dice che scacci dal viso i problemi di pelle grassa e insensibile. È sostanzialmente costituito, come vi dicevo, da argilla detergente, quindi lavanda e estratto di tipi. Quindi combatte i batteri, garantisce che la pelle rimanga ben pura. E all'interno anche rosa e camomilla, che hanno funzione lenitiva contro i rossori. Ed anche del sambuco, per garantire che la pelle sia morbida e ben idratata. Si può usare appunto contro l'acne, ma anche contro l'eczema. Ed è particolarmente consigliato per i teenager. È un prodotto vegano. Ragazzi, io spero che questa mini haul della Lush vi sia piaciuta. Vi invito sempre a seguire il mio canale, a sottoscriverlo. E vi rimando a presto per la review di questo scrub, che utilizzerò questa sera stessa. Ciao ragazze, a presto! Ciao ragazze, a presto!